E' un borghese lecamente, un fantasma liberato, non affatto o discreto, del limitato, poveri noi. Giornalisti d'altri tempi, con notizie e molze a fiato, sentimenti provventi dal futuro programmato. Chi siamo noi? Noi, fragili e invadenti, sempre pronti a via, nell'ambiguità, dell'ipocrisia, quasi unibima. Proccia ma noi, fuori il vento e il fuoco, angeli d'amore, incattività. Giornalisti d'altri tempi, con notizie e molze a fiato, noi, fuggiamo noi. Noi, attraverso i vetri e la fantasia dell'irrealtà, dentro l'ironia, tu ti allerta a mai. Vedi noi, abiglie e inesterti, dai con gli occhi aperti dell'oscurità. Noi, naufraghi e pirati, sogni incensurati, messi in libertà. Noi, stiamo in libertà. Noi stiamo in vedi e di citare e diventi e curiosità. Grazie a tutti Il canto Il canto Senti ma voi che fate? Date questi titoli abbastanza così difficili Fate le teste anche insomma intellettuali Avete un successo come le cose proprio più biecamente commerciali? Vuol dire che arriviamo in maniera diretta Vuol dire che il pubblico non è stupido Che capisce le cose buone Anche oltre le operazioni commerciali Senti si dice che tu sia la più bella voce italiana Grazie Qual è il complimento più bello rispetto alla tua voce che ti hanno fatto? Beh non saprei sinceramente In questo momento non mi viene in mente nulla Però il fatto che Che questa voce circoli Che ci sia questa voce Che possa Comunicarla agli altri è già una gran cosa Voi date un'idea di grande affiatamento sulla scena E così anche nel privato? Beh sono undici anni che siamo insieme Undici anni Siamo riusciti a limare tutti gli spigoli Che potevano esserci tra di noi Quindi c'è un grande senso di amicizia Di fratellanza Undici anni la stessa formazione? No ha cambiato il tastierista C'è Sergio Cossu È il nuovo tastierista nostro Benvenuto Sergio Cossu Però il resto della formazione è lo stesso Senti Chi è? Chi è? Tu sei stupendo Con questo cappellino Proprio sempre Meraviglioso Meraviglioso Senti Chi è il più prepotente fra voi? C'è un prepotente fra voi? No Però C'è qualcuno che decide? Diciamo che Antonella In qualche maniera si fa sempre sentire Quindi Sì e beh con la voce che ha Lo credo bene che Antonella si fa sentire Per la balleria dobbiamo sempre In qualche maniera rispettare i suoi desideri Ma secondo me i desideri di Antonella Sono proprio quelli giusti Perché se continuate ad imbroccare Un successo dopo l'altro Veramente con qualsiasi tipo di musica Voi abbordiate Questo poi Questo Melo Mi pare che sia Quasi un punto di arrivo O di partenza Non so di una ricerca musicale Sicuramente per noi è importante Anche perché con questo disco Gireremo l'Europa Nel senso che È stato acquistato in tutti i paesi europei Ci sarà una tournée molto molto importante Per cui Ok boss Capito che lei è il boss Ho capito Allora un altro applauso ai Mattia Bazar E a loro nuovo L.P. Melo E adesso un momento di pubblicità E ci troviamo subito dopo amici Ciao